La prima pagina di Primo Pianco La prima pagina di Primo Pianco Perdono quota nella classifica d'Italia Oggi si vive meglio al nord Trento al top Notizie centrali Campobasso La fiera trasloca in centro Confcommercio boccia La nuova location danno per gli esercenti Montenero di Bisaccia Autovelox lungo la statale 16 Parte la crociata del comitato Protrignina Al via centinaia di ricorsi Mentre ancora al centro pagina Scuole edifici non a norma E pochi collaboratori Sicurezza a rischio Mentre sanità, pos, lacrime e sangue Presidio in via Genoa Del SOA Immagini al centro pagina Lupi, pari pazzo E silenzio stampa Cudini al Capolinea I rosso-blu vengono rimontati dal Fiuggi Sul 4-4 Il pubblico chiede la testa del tecnico Gesù è riflette Domenica di festa invece per le Alto Molisane Brindano sia l'Agnone che il Vasto Girardi Eccellenza il Bebi a Brunzo Trascina e il Boiano Capriatese e Beirano Sorridono Promozione, Spinete Debutto che per Varanese Alla Fidelis e Ururi Fanno X Immagine sulla sua IGU In 3.000 più forti della pioggia Il capoluogo è giallo-blu Bene, passiamo così alle notizie nazionali Con i titoli del messaggero Ilva La proposta Mittal al governo L'azienda pensa un'intesa su scudo penale Occupati e piano industriale Conte prende tempo Manovra oggi arrivano gli emendamenti Ritenzione su tasse e quota 100 Nodo carcere agli evasori Mentre l'immagine centrale Piovono alberi Tragedia sfiorata a Roma In Emilia e Toscana Straripano i fiumi A Venezia Acqua Un metro e mezzo Valanghe al nord Allagamenti A Napoli La paralisi di spalla Chiuda Anzi no Industria In balia Delle procure di Carlo Nordio Poi ancora al centro pagina Allarme Unione Europea In Italia popolazione a picco Effetto Sulle pensioni Siamo così ai titoli del Corriere della Sera Appello Conte sulle tasse In Parlamento Giù quelle sulle auto Gli ussoli Lo scontro Tra PD e Movimento 5 Stelle Ilva Di Maio Chiede a Mittal Di tornare al tavolo delle trattative Mattarella Riceve i sindacati Anche qui il maltempo In prima pagina Arno e Reno Fanno paura Scuole chiuse Per maltempo L'allarme Brennero Blocchi Per la neve Articolo di spalla Che errore ignorare il futuro A firma di Maurizio Ferrara Passiamo così a Repubblica Povera Italia In difesa L'allarme Argini Dal nord Alla Campania Fanno paura i fiumi Ecco i numeri del dissesto Maltempo ancora per sette giorni Venezia Alla quarta ondata Il mare ci sta portando via tutto Intanto qui l'immagine Fa riferimento a Firenze Mentre l'editoriale a firma di Eugenio Scalfari Il passato ci guida La musica ci commuove Notizia di politica Ius Cultura Il PD alza la posta I 5 Stelle chiudono L'alleato Di Maio Vogliono far cadere il governo Pensino alle inondazioni I titoli del sole 24 ore L'Italia dei debitori Trieste Più affidabile E crotone in coda La classifica delle province L'indice di sostenibilità Misura e rapporto Tra reddito e rate Da rimborsare A Oste e Parma sul podio Genova Quinta E Napoli 96esima Evasione La privacy Non frena Parla il garante Soro Non siamo noi A bloccare le entrate Nelle attività di contrasto Mediante l'uso Dei dati Diamo solo indicazioni Per proteggere le informazioni Fattura elettronica In arrivo 55.000 lettere Di compliance Passiamo così Alle notizie di sport Della gazzetta Dello sport La pirlata Vettel E Leclerc Si fanno fuori da soli Ferrari Caos Incredibile Autoscontro A Interlagos Si è di calcio Conte Lab Dal mago dei muscoli Al tattico della difesa Ecco come funziona Il nuovo metodo Inter Il tecnico raccontato Dai suoi uomini Nazionale Tocca a Ciro Mancini con Immobile Per vincerle tutte E ringrazio Sacchi Mentre notizie Su CR7 Qual a mano Ronaldo Juve È vero Che non ero al top E col Portogallo Fa 99 Bene adesso Guardiamo Le immagini Che si riferiscono Alla giornata Di Serie D Girone F Delle Molisane Partendo Subito Dai tanti gol Che si sono Verificati Al Romagnoli Il campo basso Pareggia 4 a 4 Tante le contestazioni Nel finale Ma vediamo Come inizia la gara Con questo gol Di Cogliati Servita Ottimamente Da Musetti E tutto fa presagire Al meglio Qui siamo Soltanto al quarto minuto Il Fiuggi però Reagisce Subito E trova Con questo gol Dalla distanza Il pareggio Traversa Rete Per la squadra Laziale Ma il campo basso Non ci sta Alessandro Fa tutto da solo Viene atterrato in aria Per l'arbitro E calcio di rigore Sul dischetto Si porta Riccardo Musetti Che prima si fa ipnotizzare E poi il tapin Vincente Che porta Il rosso blu Ancora in vantaggio Sul 2 a 1 Campo basso Che continua Il suo forcing Offensivo E fa bene Perché qui Cogliati Tira in porta Pare al portiere Il tapin Vincente E ancora di Riccardo Musetti Doppietta personale Per il capitano Rosso blu A quota 3 Rete in stagione Questo poi Il secondo tempo In 10 minuti Il campo basso Sciupa tutto Qui l'uscita infelice Di Natale L'autogol Di Fabriani Subito dopo Un calcio di rigore Abbastanza Opinabile Ma in ogni caso Il Fiuggi Segna E pareggia i conti Nel finale Si è all'ottantesimo Cavalcata di Zammarchi Dentro per Cogliati E 4 a 3 Per il campo basso Cogliati segna Il sesto gol In 4 partite Numeri davvero bomber Ma al novantunesimo Arriva la beffa Qui Giampaolo Chiede un fallo L'arbitro fa continuare E qui In area di rigore C'è il gol Del Fiuggi 4 a 4 Al punto A 3 minuti Dalla fine Contestazione Nel finale Silenzio stampa Della società E la tifosirea Che chiederà La testa Del tecnico Cudini Passiamo invece Alle immagini Di Tolentino Dove l'Olimpio agnonese Vince In trasferta Lo fa con il risultato Di 2 a 1 Parte meglio La squadra locale Con Miozzi Che fa 1 a 0 Al decimo minuto Del primo tempo Questa la sua esultanza L'Agnonese Però nel primo tempo Riesce a pareggiare I conti E lo fa con il solito Conec Qui il tiro Dalla distanza Che si infila Nell'angolino basso Alla sinistra Del portiere Grande gol Dell'attaccante Granata Nel secondo tempo Al minuto 43 a 2 minuti Proprio dalla fine Il gol Di Dercole E poi tante proteste Per il Tolentino Per un rigore Non concesso Nel finale Ed anni Di Miozzi Passiamo Alle immagini Della vittoria Del basso Girardi Che invece Supera In casa Il Chieti In questo caso È Chiele Mateng A stiglare Il gol del vantaggio Grazie a questo calcio Di rigore Ha segnato Dall'arbitro Per un'uscita Infelice Del portiere Chiele Mateng Fa 1 a 0 Anche per lui Tanti gol Si sta Davvero Avvicinando Alle zone Altissime Della classifica Marcatori Qui poi Il regalo Del portiere Teatino E il 2 a 0 È di Daguano Quando siamo Giunti Al novantesimo Applausi Per la squadra Di Mister Farina E adesso La domenica Anche Dell'Atletica Del gruppo Virtus Tanta gente Migliaia di persone Per la Sue Giù A Campobasso La città Che si è colorata Di giallo Blu Tante le persone Che hanno sfidato La pioggia Ma vediamo Il servizio Di Cristina Niro Bomba d'acqua Poco prima Della partenza Della Sue Giù Che non ha spaventato Affatto Le migliaia Di partecipanti Perché come diceva Il fondatore Nicola Palladino Mai battere La ritirata Anche se diluvia Così è stato In occasione Della 46esima edizione Della corsa Più amata Dai Campobassani Tutti muniti Di keyway E ombrelli Si sono piazzati In piazza Monumento E caduti In attesa Del fatidico Sparo di partenza E l'emozione Nel vedere Questo fiume Di persone Che fin anche Contro L'avversità Del tempo Si è Cimentato Con figli A seguito Nei chilometri Stabiliti E' sempre la stessa Intensa e ineguagliabile Impeccabile La macchina organizzativa Del gruppo Virtus Campobasso Per una manifestazione Patrocinata Dal comune Dalla provincia E dall'assessorato Allo sport Della regione E' unica Del suo genere Bellissimo La gente Ci ha voluto bene Ed è venuta Tutta 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 Avete visto Che bella partenza Io me la sono goduta Lì dal Dal monumento Dei caduti Allo sparo Del sindaco E' stata bellissima A partenza Con gli ombrelli Non l'avevo mai vista Bellissima Quest'anno Poi l'evento Celebra i 60 anni Di attività Della Virtus E il ricordo Del maestro Domenico Fratianni Scomparso di recente A cui la società Campobassana Era particolarmente legata E per la quale Il maestro Ha disegnato le medaglie Che hanno adornato Il petto Delle migliaia Di partecipanti Nel corso Delle ultime 18 edizioni La su e giù Da 46 edizioni Veicola In ogni occasione Messaggi sociali Importanti Quest'anno A fare da cornice Alla moltitudine Di colori Ci hanno pensato Le t-shirt bianche Per dire no Alla droga Avvocati Forze dell'ordine Procura Hanno portato Lungo la corsa Cittadina più amata Il senso Di una vita sana Fatta di sport Relazioni sociali Divertimento Senza l'orrore Degli stupefacenti Avvocato Rivellino La su e giù Un evento importante Per veicolare Un messaggio Ancora più importante No alle sostanze stupefacenti Un no secco Il progetto va avanti Quando abbiamo iniziato Era una scommessa Piano piano Stiamo crescendo Soprattutto stiamo arrivando Ai cittadini Alle famiglie E questa è un'occasione Per arrivare alle famiglie Per stare vicino alle famiglie Anche noi che non siamo corridori Indossiamo la mano E ci scriviamo La sua e giù E percorreremo questo tratto Camminando Per chi non ha La forza come me Di correre La cosa bella È aver visto Tanti bambini Con le tisci E questo è importante L'anno scorso Ricordate La manifestazione Che ha aperto Questa Dott'inizio A questo progetto Con tanti ragazzi Il messaggio va ai ragazzi Bisogna cambiare la cultura Come sempre La cultura passa anche Attraverso dei messaggi E questo è un piccolo Segno Ma è un segno forte Che deve stare In questa città Deve essere sempre più diffuso Diciamo sì Allo sport No alla droga Sì Un sì grande Un sì immenso Sì allo sport Non alla droga Tu ambisci a diventare primo? Eh Beh Non credo Se riuscirò Però È perché Ci stanno Le persone Che si allenano da anni Però l'importante È partecipare Sì E A me piace Anche molto Lo sport Perché È bello E E Si fa stare Sempre in mezzo Alla gente Sì Poi c'è C'è Il lavoro di squadra Alcuni sport E poi Tu che sport pratichi? Calcio Nuoto E Giornato agonistico E E basta Sei un polisportivo Eh Nel calcio Che ruolo fai? Attaccante Come chi? Eh Di bala? No Non tipo la Juve Che tifo? Roma Forza Roma Forza Roma Sì E forza la Sueggione Eh Tu partecipi alla Sueggione? Sì Ti piace? È il primo anno che la provo Il primo anno? Sei allenata? Non lo so Ma che dici? Facciamo primi, secondi? Come ci classifichiamo sul podio? L'importante è partecipare? Sì Poi hai una bella maglietta Che racconta questa maglietta? Che dice? Eh Molise senza sostanze superfacenti Perché noi diciamo No alla droga Sindaco La Sueggione L'evento di Campobasso Quest'anno c'è un messaggio Che veicola ancora più importante Lei indossa anche la maglietta Lo fa come avvocato Lo fa come cittadino Lo fa come primo cittadino No alla droga Eh beh Credo che poi tra l'altro Lo sport sia uno dei migliori antidoti Per questo tipo di problema Le dipendenze Si parla di droga Io aggiungo sempre anche la ludopatia L'alcol Che sono tutte dipendenze importanti Nel caso specifico Sappiamo che c'è un impegno Molto forte da parte anche della procura Quindi per contrastare questo fenomeno Così grave Perché purtroppo lo sappiamo È in continua crescita Si è quasi tornati indietro Rispetto agli anni Un po' agli anni Ottanta E quindi insomma Siamo qui Testimoniamo l'attenzione Anche dell'amministrazione Che nei prossimi mesi Favorirà anche delle forme associative E perché no anche di contrasto Poi la pioggia Questa mattina Sta provando a frenare Questo evento Ma l'evento resta Quello per eccellenza Per questa città Siamo alla 46esima edizione Davvero Io purtroppo oggi Non partecipo Però devo dire che sì È proprio una festa Per Campobasso Peccato che sarà un po' bagnata Però insomma Vedo molte persone attrezzate Quindi Festa bagnata Festa fortuna Assolutamente sì Assolutamente sì E dopo mezz'ora Dalla partenza Hanno tagliato il traguardo Ivan Di Mario Primo tra gli uomini Letizia Di Lissa La più veloce delle donne È stata abbastanza dura La gara Perché stavo attento Dove mettevo i piedi Si scivolava parecchio Comunque Come sempre È stata una grande festa dello sport La Virtus Organizza sempre la gara In maniera impeccabile E c'era molta gente Sul percorso Pure per sapere come stavamo Le condizioni degli atleti C'era ottima assistenza E Diciamo che mi sono divertito La Sue Giù Nella Sue Giù Non c'è un vincitore E neanche una vincitrice Ci sono tutti i partecipanti Che arrivano Infatti Come potete vedere Ognuno di noi Ha una medaglia Sul collo Appunto Perché tutti sono Al traguardo dei vincitori Bene Con queste bellissime immagini Della Sue Giù Si chiude la nostra rassegna stampa Prima di salutarci Diamo uno sguardo Al palinzesto Della giornata Sulla nostra rete Alle ore 11 Conto alla rovescia Alle ore 13 Fuori menu Alle ore 13.50 Musa TV Le edizioni del telegiornale Alle ore 14 Ore 16 Speciale La transumanza Punto Verde Alle ore 17 Ore 19.30 TG News Alle ore 21 Fuoco incrociato L'ultima edizione del telegiornale Alle ore 23 Ebbene con questo è davvero tutto Grazie per aver scelto la nostra informazione A tutti Un buon proseguimento di giornata Grazie per aver guardato il nostro canale